Il primo classificato è la Bike to Costa dell'Abruzzo. È l'Abruzzo, la regione vincitrice dell'Oscar italiano del cicloturismo. È accaduto a Verona in occasione del Cosmo Bike Show, il celebre festival della bicicletta. All'Abruzzo è stato assegnato il primo premio del Green Road Award e ha così superato i progetti presentati da Lazio e Toscana. La giuria, composta da giornalisti ed esperti del settore, ha voluto premiare il progetto Bike to Coast, ovvero la pista ciclabile di circa 130 chilometri che collega San Salvo e Martinsicuro, percorrendo la spettacolare Costa dei Trabocchi. A ritirare il premio l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo. C'è ancora da fare per realizzare il progetto, ma siamo sulla buona strada, ha dichiarato l'assessore. Ora si è capito che solo attivando sinergie tra i territori si può pensare a una svolta reale nell'offerta delle varie tipologie di turismo. Intanto, mercoledì 26, Febbo si recherà a Roma, nella sede di Ferrovie dello Stato. Come espresso in un comunicato stampa, obiettivo della visita è quello di superare alcune criticità e definire l'entità di risorse a disposizione per valorizzare al meglio il passaggio della ciclovia nelle aree dismesse della rete ferroviaria. Un ruolo importante è quello di Ferrovie dello Stato, ha sottolineato l'assessore, visto che il tratto abruzzese è inserito nel più ampio contesto nazionale della ciclovia adriatica. Ad accompagnare Febbo ci sarà la direttrice generale della regione Barbara Morgante, già amministratrice delegata di Trenitalia. Oltre quello nella capitale, il prossimo appuntamento, dove l'offerta cicloturistica abruzzese sarà esposta in vetrina, sarà quello di fine marzo a Milano, alla fiera dedicata al turismo in bicicletta. Grazie a tutti!